Siamo con il Presidente Armando Zambrano del CNI. Presidente, ieri avete firmato un importante accordo tra il CNI e il CEI, può dirci qualcosa di più? Abbiamo stipulato questa convenzione che prevede per tutti gli iscritti agli albi dell'ordine degli ingegneri di poter avere in abbonamento tutte le norme CEI, quindi di poterle visualizzare, di poterle stampare, di poterle utilizzare. È un lavoro che abbiamo portato avanti da molto tempo, siamo convinti che questo serve a far crescere la professione e anche a diffondere la normazione volontaria in cui la logica di semplificazione delle procedure che abbiamo sempre auspicato. Il costo è 45 Euro per iscritto più IVA per la durata di un anno con possibilità ovviamente di rinnovo. Abbiamo l'impegno di raggiungere un certo numero di abbonamenti per poter approfittare di queste condizioni estremamente vantaggiose, ma sono convinto che la categoria risponderà perché già abbiamo fatto una indagine e già abbiamo visto che moltissimi colleghi sono interessati. L'accordo prevede come per l'Uni anche un maggior coinvolgimento nel processo normativo? Per questo lo stiamo portando avanti con una partecipazione più attiva in CEIA, non abbiamo preso recentemente delle quote in più, abbiamo la presenza in tanti comitati sicuramente anche, non c'è questo come fatto specifico ma di fatto c'è un'attività importante che stiamo svolgendo. Nel suo mandato vediamo una crescente presenza del CNI in tutte le attività in cui si producono norme, sia che siano volontari sia che siano di legge. Questo va anche nella direzione di far crescere il ruolo degli ingegneri nelle decisioni, nella politica italiana. Mettiamolo al contrario, c'è bisogno di ingegneri per fare norme tecnicamente utilizzabili e quindi l'impegno che stiamo facendo, che stiamo portando avanti è quello proprio di essere presenti dove si scriverono le norme e anche a seguirle nelle fasi successive perché abbiamo bisogno in questo Paese di norme applicabili e gli ingegneri nel campo loro, ovviamente nel campo tecnico e scientifico, ma per la verità ci stiamo impegnando anche su campi non strettamente di nostra competenza, da quello fiscale, da quello economico, possono dare un contributo veramente significativo che tra l'altro è molto apprezzato, nel senso che i documenti che stiamo producendo, molti come Consiglio nazionale e molti con la rete delle professioni tecniche, molti con il supporto del centro studi, stanno avendo dei buoni risultati, abbiamo modificato alcune norme importanti, per esempio l'interlocuzione con l'ANAC che ci ha portato ad avere quella determina, la 4 2015 recentissima che ha sostanzialmente accolto le nostre istanze di semplificazione delle procedure di gare di affidamento ai servizi di ingegneri e architettura soprattutto ponendo a livello più basso possibili i requisiti per consentire la massima concorrenza.